Ciao a tutti ragazzi Questo qui è un video di Deathmatch Squadra su Newtown Insomma Vedrete dopo che prenderò un'inculata Alla fine guarda E' incazzatura Allora Guardate sto fio di puttana che mi ammazza Sua madre comunque Sto usando la K47 Con doppio caricatore Doppio caricatore E la C775 Penso sia Col fuoco automatico Allora Secondo me doppio caricatore E' la cosa più utile che ci possa essere E' la cosa più utile Che ci possa essere perchè Praticamente non ricarichi E' velocissimo La K47 La K Secondo me E' una figata di arma Perchè è precisa Non si muove neanche più di tanto Poi Ecco sto usando le Claymore E' esperto Poi leggero forse Leggero Fantasma Non mi ricordo Eh leggero Leggero Esperto pro E maratona Uso le Le granate Le come cazzo si chiamano La frammentazione E Ed estrodenti Poi la Claymore E niente In questa partita E' abbastanza decente Riesco a prendere Il supporto aereo Quello da 9 E niente Madre fio di puttana Madonna Dopo Lì Ce n'erano Altri due O tre Forse Mi ammazza Uno Non so come cazzo Abbia fatto Ecco Quello lì Che figlio Di puttana Niente va C'è stato Mucca lì Ecco Lì va Sua mamma Sua mamma Anche la sua Vediamo un'altra Ma Sua mamma Anche la sua E' passato Il 39 Ora qua Adesso Forse Qua Comincerò A camperare Un pochino Io sono Su Radam Sparito L'hanno ammazzato E Ok Cazzo Devo dire Adesso Cercherò Di seguirli Consiglio Chi mi ha dato Un mio amico Mi ha detto Che per rendere I video Più fighi Devo offendere Quelli che mi ammazzano Ok Allora farò così Guarda Questo fio di puttana Qui Crepa Poi Eh Adesso Ecco Il fio di traia Lì Me l'hanno ammazzato In due secondi Dai Cosa devo dire Ancora Ah Sì Metterò Circa Sì Un video a settimana Lo metto comunque Penso proprio Che lo metterò Almeno un video Da settimana E Se va bene Anche due Poi si Vedrà Ecco A napal Qua Io sono in modalità Cinema E quindi Sapete che Non Non si vede La mappa Dove Dove lancio Le mie minchiate Ho tolto L'audio Ancora Perché È proprio Una meta Questa scheda Di acquisizione Qua Soltanto Per il video Va bene Qualità Abbastanza Decente Insomma Va bene Per me Ho fatto Il contratto 8 kg Di fila Manca La nona Ecco Io non riesco Ad ammazzarlo Mica Cazzo Ecco Eccolo Eccolo qua Guardate qua Proprio Volevo Andarla In fondo Ma Niente Non ce l'ho Fatta Ok Ho fatto Support aereo Lì Guardate Che inculata Adesso Guardate Finita Ho fatto Un'uccisione Porca Troia Vabbè Iscriviti E commentate Raga Ciao Ci vediamo La prossima Settimana